Posso rispondere perché sto vedendo un attimo l'audience sale, mi sa che sale oggi, caspita! Buonasera, salivo l'audience, benvenuti in trasmissione, guarda stavamo in pensiere, come mai abbiamo detto non arrivo in minopausa, che l'è successo oggi poeta? Camminavo per la città senza meta, quando ad un tratto ho visto l'orario, mi sono incamminato qua. Ma guardi, ma lei non si deve fare una questione così, così importante, noi per un giorno possiamo fare pure almeno della poesia, urca! No, non potete fare a me. Lei dice? Per piacere. Scusi? Dalla mia settima raccolta di poesie, dedicata al mondo dello sport, dal titolo Di partita in partita, Reciterò i versi di Stranezze di un volo, precipitando da quell'aereo, tu salisti in cielo. Caspite che poesia ragazzi, tre versi, astutato, tutta la storia di una persona, caspite, caspite, piacere. Mamma mia. Cos'altro, c'ha qualche altra bella storiella da raccontarci oggi? Voglio concludere la mia vista di oggi. Perché ci vediamo pure domani, no? Sì, vengo. Qui ci vuola l'aglio, dobbiamo rientrare lo studio di l'aglio. Che piacere. Scusi, scusi, stavo organizzando. Finirò oggi con la mia poesia più intensa, dal titolo Giorno di raccolta. Quel giorno non saprì il tuo paracadute. Guardi che lei dici delle cose terribili, non si può mettere a ridere. Per piacere? Eh no, per piacere lo dico io. Non sempre il paracadute, è quello orribile. Giorno non saprì il tuo paracadute. E sopra un campo roccioso, esplodesti in salute. E risparsa in frammenti, come un puzzle enorme. Puzzle? Puzzle. E su un pezzo di prato, radunai le tue forme. Uuuuh, uuuuh, va di retro, va di retro, uomo nero. Va di retro, questo che cos'è? Facciamo su una bella lisciata, io non ne posso più. Pubblicità, se arrivate alla pubblicità, mamma mia.